A San Valentino Albano Carrisi e Loredana Lecciso divisi, ecco perché. Albano Carrisi e Loredana Lecciso passeranno il 14 febbraio lontani, ecco perché. Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di Gossip, che ha appena visto Elena Bacanova fare delle rivelazioni sorprendenti su un ipotetico ritorno di fiamma tra Albano e Romina Power. Le ultime novità ci svelano, che Loredana Lecciso ha rilasciato una nuova intervista dove è tornata a parlare di Albano. Loredana Lecciso e Albano, divisi a San Valentino. Le novità di Gossip rivelano che Loredana Lecciso è tornata a far discutere di sé dopo le voci di una presunta fine della relazione ventennale con Albano Carrisi. Loredana ha addirittura passato le vacanze natalizie in compagnia dei suoi amici a Fabia, lasciando Carrisi a Cellino San Marco insieme ai figli. La showgirl stufa delle intromissioni della Power avrebbe deciso di prendersi una pausa di riflessione dal cantante pugliese, quando quest'ultima aveva rivelato di amarlo come il primo giorno. Purtroppo entrambi non hanno ne smentito la rottura né confermato di essere ancora una coppia. Infatti il cantante ha driblato le domande sulla sua vita privata nel corso delle interviste rilasciate per alcune emittenti televisive, mentre Barbara Dulso aveva invitato Loredana a tornare a Cellino San Marco in famiglia. Infine ecco arrivare la dichiarazione shock di Loredana Lecciso a Radio Z dove ha rivelato come passerà la festa degli innamorati. Loredana Lecciso lontana da Albano, starò a Pavia. Dalle notizie di gossip si apprende che Loredana Lecciso ha concesso un'intervista a Monica Loffredi Adriana Paratore. Qui le due conduttrice hanno domandato a Loredana come trascorrerà la festa di San Valentino. La madre di Vido e Jasmine ha rivelato di non aver mai festeggiato la festa degli innamorati, ma vissuta tramite i racconti delle amiche. Inoltre non ha chiarito del tutto in che rapporti si è restata con Albano, ammettendo di vivere ancora a Pavia con il fratello. Inoltre ha raccontato che i figli sono con il padre in Australia, mentre non ha fatto alcun riferimento al loro ipotetico incontro chiarificatore. Un'indiscrezione lanciata dalla Gazzetta del Mezzogiorno, che evidentemente non ha dato i risultati sperati. Infine il tormentone tra Loredana Lecciso ed Albano non è ancora finito, mentre Romina Power è tornata a farsi vedere su Instagram postando un messaggio d'amore forse diretto ad Albano dopo aver trascorso una settimana di ritiro spirituale in America. Per altre notizie di Gossip vi basterà continuare a seguire questo sito.